A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittes. Cari amici, avremo poche novità per il momento dal punto di vista termico, però poi il caldo intenso aumenterà. Intanto vediamo cosa accadrà nella giornata di sabato. Avremo una giornata di domenica, scusate, una giornata caratterizzata da cielo, prevalentemente sereno al mattino, soprattutto su zone pianeggianti. Avremo nuvole in aumento, come al solito, entro le ore centrali della giornata e avremo ancora dei rovesci di pioggia, dei temporali, guardate, su zone alpine. Cosa accadrà dal punto di vista termico? Lo abbiamo detto, per il momento pochi cambiamenti, quindi avremo temperature minime e massime stazionarie, quindi con pochissime variazioni, un po' su tutto il territorio. Io per ora ho concluso, mi fermo qui, vi auguro di trascorrere, come al solito, una buona giornata. Arrivederci.